Affido Familiare è una nuova iniziativa lanciata dal Comune di Ricodo del Golfo, di che cosa si tratta? Affido Familiare è un'iniziativa del distretto sociosanitario, è un modo per mettere in relazione bisogno di affetto, bisogno di essere seguiti, bisogno del calore familiare, ma anche bisogno di dare aiuto, bisogno di trasferire su altri i propri valori, il proprio patrimonio valoriale. Noi martedì alle 18 in sala consigliare iniziamo a raccontare alle nostre famiglie l'importanza di prendere in esame anche come modo di fare attività civico-sociale importante l'accogliere nella propria famiglia un minore che abbia bisogno per un po' di tempo e a linea temporanea di essere guidato e di essere parte integrante di quella famiglia, perché ci sono genitori che non possono permettersi in quel momento specifico, per problemi che riguardano loro, di acudire i propri figli come questi meritano. Ricordiamoci che i bimbi, gli adolescenti, i minori che non trovano poi accoglienza in famiglia e che devono essere per un periodo di tempo determinato portati via dalla famiglia d'origine, senza questo tipo di organizzazione, questo tipo di progettualità, va in comunità, con tutte le conseguenze, ancorché strutture di altissimo profilo, comunque regolari, normate, è chiaro che tutte le conseguenze di una minore che perde il contatto caldo di una famiglia. Chi può accedere e come si fa? All'affido familiare possono accedere famiglie di ogni genere, coppie sposate con e senza figli, coppie non sposate con e senza figli e persone single. Per cui, a differenza dell'adozione, non è necessario un legame di tipo matrimoniale e nello stesso tempo l'affidamento permette alle persone single di poter accogliere minori che si trovano in situazioni di difficoltà. Per intraprendere questo percorso è necessario svolgere un primo colloquio con l'assistente sociale del centro affidi del proprio distretto e successivamente iniziare poi un percorso con l'assistente sociale e la psicologa del distretto durante il quale si verificheranno i requisiti base per poter poi diventare una famiglia affidataria.